Vi ricordo che una delle iniziative avrà sede anche presso la Camera di Commercio, il Presidente ha cercato di portare i suoi saluti, è una iniziativa molto interessante perché il Camera di Commercio nel 2003, tra i 200 anni della sua fondazione, commissionò tre servizi fotografici a tre grandi fotografi mani per raccontare la nostra città e il nostro territorio. Questi fotografi erano Ali Gruyere, Alice Maioli che è stato Presidente di Manium fino a qualche mese fa e Chris Steve Perkins che è un famosissimo anche lui fotografo di ermano inglese mentre Ari Gruyere è un famosissimo fotografo bello. L'occhio di questi tre fotografi hanno dato vita a degli scatti memorabili che sono diventati anche un libro che però non è mai stato trasformato in un evento espositivo. con il Presidente di Camera di Commercio e con il Segretario Generale, il Presidente, che ringrazio di cuore per tutto l'aiuto che ci ha dato, abbiamo provato a fare una selezione di questi scatti e a farla diventare un momento di proiezione corale, una mega proiezione di grandi dimensioni che sarà nell'anfiteatro della Camera di Commercio, quindi da martedì a venerdì al primo piano all'interno della sala consigliare mentre sabato e domenica addirittura nell'auditorio, ma quindi con un accesso direttamente dalla strada su grande schermo. anche per raccontare come Magno ha guardato alla nostra città e al nostro territorio.